argiolas e cannonau una famiglia e un vitigno che rappresentano l'eccellenza della meravigliosa regione sardegna sulle colline della trecenta marne calcari battute dai venti di maestrale crescono vecchie viti di cannonau da cui deriva il senes un cannonau di sardegna riserva che gli argiolas hanno voluto dedicare a tutti i centenari che vivono e hanno vissuto in sardegna a cominciare naturalmente dal loro capostipite antonio argiolas scomparso all'età di 104 anni il cannonau di sardegna riserva senes si presenta nel calice di un brillante luminoso colore rubino di media trasparenza al naso elegantissime sensazioni di mirto di piccoli frutti a bacca rossa di viola di grafite conditi da una tenue tonalità speziata frutto della maturazione del vino in piccole botti di rovere all'assaggio questo vino sfodera la sua straordinaria eleganza la sua signorilità un tannino perfetto una fragranza aromatica che avvolge il cavorale e si ripropone in una lunga persistenza gusto olfattiva che offre nitide le sensazioni già percepite direttamente al naso un grande vino rosso da servire a una temperatura di 18 gradi in ampi balon a tavola è un meraviglioso compagno di tutta la cucina tradizionale sarda in particolare lo suggeriamo sui primi piatti conditi con sughi importanti e sui grandi arrosti su tutti il mitico maialetto